negativo, 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 mi costa dirlo ma hai ragione la forza perché hai visto la festa o no? hai visto la festa? si ma ti avviso, ti avviso ma faccio una traduzione perché molti dicono si vede ha una bella classe, non sarebbe proprio tutta niente, non si può chiamare, non si può chiamare lei la bambolina mia moglie a classe invece lui vestito tutto di nero neanche dovesse andare al funerale non copiare me che ti brucio, e come ti saresti vestito se fossi venuto alla festa? uuuu, no, come, come, come ti sei gessato, gessato color ghiaccio, a te non te ne frega niente, e no come non te ne frega niente, alla prossima festa e tu ci sarai, no, come l'ho dichiarato io alla prossima festa sono negativo, uuuu, lei lo si è offeso, lei lo si è offeso è negativo che ha preso il covid? ti sei offeso, e dipende da me il fatto che tu non sei venuto alla festa, allora possiamo andare anche a arrivare in tre, che tu l'hai il pupazzo vicino a lei che lei dice, non lo si è di pupazzo ora non ti sto capendo, che c'entra col fatto della festa, il pupazzo, lei chi? si capisce già lei chi? si capisce lei chi? si capisce questo non l'ho capito neanche io si capisce non l'ho capito si capisce l'unità di mettere il telefono di camera in condotto oggi ho trovato il messaggio non si capisce io e chi è? che tu hai detto lì a me che tu sei stato a fare che? che io alla festa non venivo io ho detto di non farti perché non ha detto lì ha detto lì non ci posso credere minimamente sto fatto sai perché? perché allora se tu non puoi uscire a fare due passi ok come è possibile che tu possa uscire per andare a una festa dove ci sono duecento persone? non è come di sto è sempre è come dico io non è come di sto perché sempre una cosa magica pombo buttacchetto come non buttacchetto ah per una formula magica io potrei trovarlo qui o non trovarlo più qui eh e qual è questa formula magica? magica 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 ma la devi andare a prendere a Globo sto la formula magica la vende Globo nooo sei affezionata a Globo c'è poco che deve fare devo capire se puoi fare il testimonial non mi serve a me mi serve ciò che prende e basta io e dobbiamo andare i pupazzi non ci va per niente niente telecamera Tino ricordatelo niente telecamera ah tu puoi vieni il pupazzo non lo voglio ho capito va bene niente pupazzo sei e mo 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 ringrazia che stanno dietro la gratta perchè altrimenti l'avrei messo sotto i piedi me l'hanno detto me l'hanno detto più di uno me l'ha detto che cosa ti hanno detto? l'esterno e l'interno l'esterno e l'interno l'esterno e l'interno l'esterno e cosa ti hanno detto? hanno detto che tu stai sempre a metà due persone soltanto sono due donne hanno detto che tu stai sempre a metà due persone soltanto si salvano sono due donne chi? ma e mo lo devi capire tu cosa significa metà? che tu ha detto tutto ciò che fai eh? tu questo lo riempi abbastanza questo te lo dico da dentro e da fuori no a parte questo però io voglio sapere il commento sulla festa tu l'hai vista mi hai detto hai fatto lo spaccone è vero o non è vero? tu ricordati ma come adesso sono questi per favore Pino sono questi che a te ti fanno andare avanti perché una volta che non ci sono più questi tu non ti capito tu sai quanti bicchieri ho bevuto alla festa? non sai non sai non sai il primo quello del brindisi all'inizio poi non ho bevuto più perché io non bevo a me aspetta a me non piace bere si scuotola la bottiglia la bottiglia era vuota pirla è pirla ho fatto finta di suonare mamma mia vedi come le cose possono sembrare una cosa e l'altra sì sì ma dai perché tu la volevi tu l'avresti voluta aspetta ci metti a via eh se ci fossi stato io tu neanche le bottiglie toccavi perché sapevo come muovermi e come ti saresti mosso? e poi non lo so come non lo sai? non lo so può darsi che si saltava dal bancone andava dall'altro lato tu non io perché sapevo come dovevo fare la tecnica e come dovevi fare la tecnica? non lo so poi è che ormai ti è caduta vabbè vuoi fare troppi mafio ma ti avvisco ti avviso dì che a te a te a te come dice loro beh non affronta loro non finisce qui come dicono loro come dicono loro ma meglio delle cazzate di loro non mi interessa niente no perché poi non devo andare a cosa ah un'altra cosa aspetta questo è grosso no hanno detto chi? sempre qua dentro o fuori? questo fuori o dentro? tu? io no ha detto ma chi la dice fuori o dentro? sempre dentro sempre da fuori vengono dentro ah da fuori vengono dentro ah scusa hanno detto ringrazio che sono io quando volete andiamo fuori ringrazia il fatto che sto dentro perché perché però io ho detto lo dovete fare insieme ai miei compari e vediamo un po' cosa succede? ora ho detto insieme ai miei compari ma cosa dobbiamo fare insieme ai miei compari? allora siccome loro hanno fatto capire ma vogliono scartare ma tutto tutto l'ha fatto vogliono riempire di botte chi ti deve riempire di botte? eh non lo so chi ti deve riempire di botte? allora io ho detto noi gli scagliamo Tino che sei operato a labbra e sei operato al ginocchio e li facciamo culo come quello della scimmia rosso io gli ho detto io io gli ho detto quando vuoi come vuoi e dove vuoi scegli tu a parte quello no a parte quello a parte però voglio a come loro a me me lo devono suonare voglio a tutti e due su quello non ti preoccupare guarda ti do la mia parola che starò là starò là perché a guardare a difendere ma da che cosa da chi sei troppo burlone eh il piede come va? a tutti fai vedere cammina vediamo vedi che io cammino da non piano ehi cammino da non piano boh aveva assoluto Mattelello questa volta traduci tu è uscito Mattelello come mai questa violenza senza motivo no appena appena guarda voglio che tu a me me lo devi spiegare come dico poi c'è uscito perché dava il mental man che vuol dire dire sai che cosa vuol dire la storia del lupo e le parole sono sempre tre il pupazzo dica ex no no ex a questo punto Lello mi ha introdotto qualcosa che cambierà completamente le sorti del giornale le sorti di quinto potere restati stavo facendo tutta una cosa restate sintonizzati perché nel prossimo video vedrete qualcosa che sconvolgerà la vita di tutti noi di quinto potere e un po' anche la vita di Lello perché da questo istante in poi cambia tutto volete vedere? è la prossima volta è la prossima volta è un modo di dire volete vedere? se volete vedere restate sintonizzati su zero negativo zero negativo su quinto potere la mani si desangua fatta si zero negativo scusa fammi andare a me grazie grazie